L'operazione di oggi, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, che si avvalsa del fondamentale apporto investigativo dei finanzieri del Comando Provinciale di Catania, del Nucleo di Pulizia Economica e Finanziaria del CICO e del GOA, ha posto fine alla attività illecita di traffico di sostanze stupefacenti di due diversi sodalizi criminali, uno dei quali organicamente collegato con la famiglia catanese di Cosa Nostra. Parte infatti dei proventi di questa organizzazione servivano a mantenere in carcere alcuni dei soggetti più importanti detenuti, tra cui Turi Amato, che era al comando del gruppo denominato 80 Palme della famiglia catanese di Cosa Nostra. Queste due organizzazioni criminali svolgevano, come dicevo, un'ingente attività di traffico di sostanze stupefacenti. Basti pensare che nel corso delle operazioni sono stati sequestrati oltre 4 kg di cocaina, inoltre ingenti quantitativi di hashish e di marijuana. Questo stupefacente avrebbe procurato alle due organizzazioni criminali profitti per 2 milioni e mezzo di euro e questa è soltanto la parte che è stata sequestrata. Una delle due organizzazioni si avvaleva di fornitori che venivano dalla Campania, dal Lazio e da altri stanziati invece nel nostro territorio. La seconda organizzazione, quella organicamente collegata con il clan Santa Paola, si avvaleva di fornitori calabresi e di altri fornitori operanti invece nel nostro territorio. Stroncare questo tipo di attività illecita che assicura profitti in misura ingente è di fondamentale importanza sempre, ma tanto più lo è in questo periodo caratterizzato da una crisi economica che appaglia le nostre famiglie, i lavoratori italiani e le imprese economiche. Infatti queste imprese hanno grossa difficoltà in questo momento soprattutto di liquidità e di risorse economiche e possono costituire quindi una preda appetibile per le organizzazioni criminali che invece non hanno questi problemi di approvvigionamenti economici. Bisogna evitare con questo tipo di operazioni che risulti ulteriormente rafforzata la potenza di queste organizzazioni criminali, la loro capacità di infiltrarsi nel tessuto economico sociale e bisogna evitare che da questa crisi possa riuscire profondamente indebolito il sistema economico delle imprese sane che vanno tutelate proprio a garanzia dello sviluppo del nostro classe.